E' stato il primo direttore nominato, che aveva scelto con tanto entusiasmo, aveva cominciato la selezione dei giovani, stava scegliendo insieme a noi locali dove metterla. E' stata una fatica quella scuola perché ci abbiamo messo risorse nello scorso bilancio, abbiamo fatto ottenere al teatro stabile l'essere teatro nazionale, un risultato storico per la nostra città. In tutta questa progettualità c'era la famiglia di Filippo, c'era Luca, c'era la tradizione di Edoardo. Questa è una perdita non colmabile perché credo che lui era il principale erede di quella tradizione. Quindi adesso bisognerà veramente ricostruire anche memorie, tradizioni, interpretazioni. Sarà complicato, però lui ci lascia un'eredità impegnativa dal punto di vista civico e politico per noi che amministriamo Napoli.